Massimo Lauria, giornalista freelance, documentarista e scrittore, autore recentemente di un reportage sul Marocco in merito ad una delle tante rivolte trascurate dai media tradizionali e cioè quella della regione del Rif. In questa regione, situata a nord del Marocco e abitata quasi esclusivamente da Berberi, si è scatenata un'ondata di malcontento, con radici lontane e storiche, ma che nell'attualità recente ha una data che risale a poco più di un anno fa. È un fatto ben preciso di cronaca, l'incidente con le forze di polizia che ha causato la morte di un venditore di pesce. Partiamo, come ricordavi, dall'incidente occorso più di un anno fa, parliamo del 28 ottobre del 2016, quando il giovane pescivendo, non sono un commerciante di pesce, Moaxim Ficri, viene sequestrato un carico di mezza tonnellata di pesce spada da parte della polizia. Nel tentativo di recuperare questo pesce spada, Ficri si lancia dentro il camion della nettezza urbana dove era stato gettato il suo carico e non si è mai capito se inavvertitamente o volontariamente viene azionata comunque la macchina trita rifiuti e Ficri rimane schiacciato dentro questa macchina, facendo una fine anche piuttosto orribile e drammatica. Quell'episodio ha scatenato da allora delle proteste continue del Marocco che ormai si susseguono da quasi un anno. Hanno avuto varie tappe queste proteste, le tappe fondamentali sono appunto questa da cui parte e nasce il movimento Hirak al-Shabi, che è il movimento di proteste di rivendicazione sociale che parte da quell'episodio e va avanti fino al maggio del 2017, quando a un certo punto sembra ci possa essere la possibilità di una tregua negoziata con il governo marocchino, con il sistema di governo marocchino, che è il Maxen. Fallisce questa tregua negoziata, viene indetta una nuova manifestazione, stiamo parlando del 18 maggio, una manifestazione davvero imponente con la presenza di uomini, donne, bambini, insomma è una manifestazione davvero di piazza e di massa molto grande. In seguito a quella manifestazione, neanche una settimana dopo, se non ricordo male la data, è il 23 di maggio o il 29 maggio, viene arrestato il leader del movimento di protesta che si chiama Nasser Zezafi, che poi rimane tuttora in carcere ed è tuttora, questo denunciano gli attivisti in isolamento da allora, quindi denunciano anche la violazione di diritti umani, anche elementari, in teoria non potresti tenere una persona in isolamento per più di un tot di tempo, loro dicono più di 15 giorni non ce la puoi tenere dentro una cella senza la possibilità di visite, senza la possibilità di avere nessun altro contatto umano se non quello dei secondini. Il fatto sta che Zezafi è ancora in carcere ed è ancora in isolamento e per lui, come per altri attivisti arrestati nei giorni successivi, è iniziato ed è in corso un processo, un processo che rischia di portarli a condanne anche pesantissime, dai 20 anni al carcere a vita, fino al carcere a vita, quindi stiamo parlando di condanne davvero molto pesanti. Nelle settimane successive, al 29 maggio, comunque all'arresto di Zezafi, la polizia arresta tanti altri manifestanti, ufficialmente si parla di circa 300-350 arrestati. Gli attivisti invece dicono che gli arresti sono molto di più, queste sono solo le cifre ufficiali, ma loro dicono, no, guarda, noi abbiamo, almeno quelli con cui ho parlato io, mi dicono, noi abbiamo notizie e contezza di cifre ben più ampie e soprattutto di sparizioni, questo è quello che denunciano loro. Sostengono appunto che le famiglie, le famiglie di alcuni dei loro attivisti non sanno che fine abbiano fatto i loro cari, denunciano casi di tortura e di violazione di altri diritti umani in carcere. Mancanza di ospedali, di università e di infrastrutture, oltre alla disoccupazione e corruzione dilagante, questi almeno alcuni dei motivi della rivolta, ha incontrato recentemente la popolazione berbera del Rif, che idea si è fatto? Dunque, sì, loro rivendicano appunto una, sostanzialmente, allora il Rif è una regione, è la regione del Marocco con il più alto tasso anche di disoccupazione di tutto quanto lo Stato, di tutta quanta la nazione. Loro rivendicano appunto infrastrutture, pensate solamente al fatto che per spostarsi a Nador, che sta a 150 chilometri più a est, quindi verso il confine algerino, da Loseima, Nador è un centro, insomma, nevralgico del nord del Marocco, ci puoi andare solamente in macchina o in autobus, non esiste una ferrovia, stiamo parlando di un tratto di strada, insomma, appunto di 150 chilometri. Stessa cosa per quello che riguarda gli investimenti in termini di sviluppo dell'area. Anche lì il governo marocchino, diciamo che negli anni, quantomeno questo è quello che rivendicano i berberi che abitano nella zona del Rif, ha tagliato fondi allo sviluppo di quella regione, forse ancora prima di questo re, perché con Mohamed VI in realtà qualcosa si è un po' ripreso, nel senso che qualche investimento ha ricominciato a tornare, insomma, a bilancio dello Stato e qualcosa in più si è fatto, però non ancora abbastanza evidentemente, o quantomeno secondo quello che loro sostengono. Io li ho incontrati, insomma, sono lavoratori comuni, molti sono disoccupati, altri studiano all'estero, quindi molto in Spagna, per esempio. Loro rivendicano anche questa cosa, dicono perché noi dobbiamo andare a studiare in Spagna quando invece potremmo stare tranquillamente in dove siamo nati e fare l'università a casa nostra, solo che l'università manca, quindi questo è un grosso problema. Sono costretti quindi, insomma, in qualche modo, come succede anche da altre parti, a emigrare per poter crearsi anche una prospettiva di futuro. Tra le rivendicazioni dei berberi, tra le rivendicazioni del popolo imazighen, che parla la lingua imazigh, c'è quella di centri diagnostici oncologici. Perché? È una delle regioni, anzi è la regione del Marocco con il più alto tasso di malattie tumorali dell'intero stato marocchino e i berberi riconducono questo alto tasso di mortalità dovuta appunto a tumori di varia natura ai bombardamenti che ci furono durante la guerra del Rif, tra il 1921 e il 1926, quando il Marocco era protettorato della Spagna, prima ancora la colonia francese, eccetera, eccetera. Durante quella guerra il Rif venne bombardato, venne bombardato con gas chimici e questo ha causato una contaminazione dell'intero territorio e loro riconducono ancora oggi quelle malattie a quei bombardamenti lì. Adesso capire se effettivamente questo tipo di diagnosi sia corretto o meno ci vorrebbe appunto un centro diagnostico vero e serio, insomma qualcuno che possa fare scientificamente, possa tirare su giù dei dati e capire se effettivamente stiamo parlando di quella vicenda o di altre cose poi occorse successivamente. In questo movimento di protesta stanno assumendo un ruolo molto importante le donne, diciamo? Sì, le donne hanno avuto e hanno un ruolo fondamentale nella protesta dei berberi. La manifestazione per esempio del luglio del 2017, quella definita del milione, perché era veramente una manifestazione imponente e gigantesca, lì allora ci furono le donne a guidare in qualche modo questa protesta, così come sono state le donne a riattivare, a riaccendere in qualche modo anche l'attenzione sul Rif l'8 marzo scorso, l'8 marzo appena passato. Il governo marocchino ha autorizzato la manifestazione nel giorno della festa della donna, salvo poi reprimerla anche brutalmente qualche ora dopo. Quindi le donne hanno un ruolo fondamentale nella protesta e hanno, ad esempio c'è il caso, questo appunto l'estate scorsa, l'estate del 2017, dell'arresto di Silia Ziani. Silia Ziani è una cantante, una cantante folk popolare, una ragazza molto giovane che è stata arrestata insieme, cioè in seguito agli arresti fatti durante quel periodo e poi è stata graziata dal re Mohamed VI. Anche Raziani denuncia maltrattamenti e anche molestie piuttosto gravi, piuttosto pesanti in carcere. Grazie a tutti.